Che bella Caterina Balivo! Piace a tutti! La ex conduttrice di Detto Fatto, che ora è diventata la conduttrice di Vieni da me, però, forse ha qualche piccolo segreto da nascondere, cosa riguarda? Il suo aspetto fisico E i suoi ritocchini? . . . Cosa? Caterina Balivo è rifatta? Pare di sì! Almeno questo è quel che sostengono quei cattivoni di Strescia la notizia Caterina Balivo è stata sottoposta allo scanner test della rubrica Fatti e rifatti di Strescia e quel che è emerso ha lasciato piuttosto sconvolti Perché nessuno si immaginava che Caterina Balivo fosse rifatta? Nel video di Strescia andato in onda martedì 20 novembre 2018, si vede uno dei primi provini di Caterina Balivo Lei è bella, molto bella! Ma diversa! Alla domanda quanto sei alta? Caterina risponde! 1,75 Ma la persona che le fa la domanda non è convinta e le dice che a loro risulta essere alta 1 73. Va bene, per Caterina non ci sono problemi, vuole superare quel provino e non saranno certo due centimetri a fermarlo E poi che succede? Poi Caterina si mette a ballare e dimostra di essere anche brava a farlo Nell'immagine successiva si vede la Balivo ai giorni nostri mentre fa delle flessioni Nel servizio mandato in onda da Strescia la notizia si vedono vari momenti, più o meno imbarazzanti, della carriera televisiva di Caterina Balivo Poi arrivano le dolenti note, la conduttrice viene passata sotto lo scanner e quel che emerge è puro shock Perché shock? D'altronde quasi tutte si rifanno. Vero, ma da Caterina Balivo non ce lo aspettavamo Ma insomma cosa si sarebbe rifatta? Secondo i cattivoni di Strescia, la Balivo avrebbe sicuramente modificato la forma del suo naso Vabbè, dai, giusto il naso. Beh, non proprio, perché il naso non è l'unica cosa che la Balivo si rifatta Avrebbe infatti messo mano anche al seno per averlo più florido e grande. Ma non è ancora finita Ma dai? E cosa altro si è rifatta? Secondo qualche maligno Caterina Balivo si sarebbe anche sottoposta alla blefaroplastica di Cezio Greggio nel servizio In pratica si sarebbe rifatta agli occhi. Ma come? Beh, è questo che hanno notato in tanti, sarà tutto vero? Questo non possiamo saperlo Quel che è sicuro è che le immagini di Strescia parlano chiaro. Non vi sembra molto diversa dagli esordi la nostra cara Caterina Balivo? Beh, non poco Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like